Musica Io questo non lo faccio per diventare famoso Ma solo per trovare un modo per uscire dal vuoto Questa è la cosa che mi interessa Quanto è buono questo caffè Questo è il caffè esclusivo che prepariamo al Caffè Novecento Le palle su cosa è giusto o no Però io so che spesso mi daranno del falso Ma io solo le mie demetto Per iscritto i miei sentimenti E tutto quello che fino ad oggi vivo Non me ne frega della celebrità Io voglio continuare a cantare Come mi va Come mi va Voglio fare tutto questo come mio ultimo gesto Senza dar conto a chi mi discrimina Mi discrimina Voglio scrivere fino alla fine Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti